Torna a Napoli con la sesta edizione la manifestazione di corsa su strada San Paolo Sport Day. Nella cornice dell'impianto sportivo di fuorigrotta, l'ASD Stadium Sporting Club Atletica Napoli, con il supporto dell'ASD Enterprise Young e dell'Enterprise Sport e Service, nonché con la consigliera di parità della città metropolitana di Napoli, si svolgerà quella che da sei anni è diventata la stracittadina partenopea. Finalmente lo stadio è aperto anche ad altri sport, commenta ai nostri microfoni l'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. Finalmente il San Paolo fruibile anche per altri sport. In una bella giornata, domenica mattina, dove ci saranno numerosissimi atleti, ho letto di numeri importanti, restituire il San Paolo allo sport cittadino è probabilmente uno degli obiettivi a cui noi insomma tendiamo. In una polemica insomma che ci vede sempre i protagonisti, ma noi vogliamo che quell'impianto sia l'impianto dello sport cittadino. Noi insieme all'ente Parco Mostra d'Oltremare e da Lopez Italia siamo fieri del lavoro svolto in questi anni. Lo sport torna ai cittadini in una città sempre più all'avanguardia nel settore dell'atletica leggera. Questo il commento di Carlo Cantales del Comitato Organizzatore. Noi domenica saremo ancora una volta allo stadio San Paolo. Per il sesto anno consecutivo il San Paolo che nell'immaginario comune è l'impianto, il tempio del calcio e dello sport napoletano sarà utilizzato come avviene tutti quanti i giorni per un altro sport cioè l'atletica leggera che entra veramente a pieno titolo in quello che poi considera il suo impianto in città. Una manifestazione che si articola su tre fasi fondamentalmente nel corso della mattinata come abbiamo sempre fatto dal primo anno ovvero una partenza alle ore 9 della gara competitiva dei 10 km gara copodistica su strada che partirà dalla pista di atletica leggera del San Paolo uscendo dalla porta maratona per andare a raggiungere il parco dell'ente parco mostrado oltremare.